Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Firenze ha ricevuto nella disponibilità del proprio organico un rinforzo giornaliero reso disponibile dal Comando Generale dell'Arma nell'ambito di una campagna un po' più ampia, se non limitata solo a Firenze, ma che investe anche le più grandi città metropolitane italiane, Roma, Milano, Bari, Venezia e anche altre. La finalità di questi servizi, che vengono attuati con un rinforzo di 25 unità giornaliere, in un turno di servizio di 6 ore, è proprio quello di, per l'arma sono rese disponibili dai reparti della linea mobile, cioè prevalentemente dal battaglione Toscana o dal reggimento Emilia-Romagna, e sono delle aliquote, si chiamano squadre di intervento operativo, il loro acronimo è SIO, sono delle squadre di supporto all'attività dell'arma territoriale. Il loro compito sarà quello, secondo una progettualità che abbiamo programmato d'intesa e sotto legge della Prefettura di Firenze, e d'intesa anche con il Questore e la Polizia di Stato, sarà quella di assicurare con continuità dei servizi proprio di prossimità, in quelle aree che abbiamo registrato, essere maggiormente sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa, della criminalità di strada e anche dello spaccio di sostanze stupefacenti. Quindi voi vedrete sul territorio questi carabinieri che gireranno in pattuglie appiedate e anche automontate, con il supporto anche delle parti specializzate dell'arma, abbiamo coinvolto anche le nostre componenti specialistiche del NAS, dell'ispettorato del lavoro per il controllo degli esercizi commerciali, avremo il supporto anche compatibilmente con le incondizioni meteo del nucleo elicotteri per la videosorveglianza dall'arto, e anche dei nucleo cinofili e degli artificieri. L'idea è che non si tratta di servizi estemporanei, ma saranno svolti su base settimanale. Oggi iniziamo da questo quadrante della città, poi ci sposteremo nel quartiere San Jacopino e lo riprenderemo giornalmente per settimane alterne. Quindi la prima settimana questo servizio che oggi avete visto lo troverete tutti i giorni di questa settimana, poi avremo una settimana di stacco e la settimana successiva invece ci sposteremo alle Cascine a Campo di Marte, dove registriamo la maggiore incidenza in questo momento storico di fenomeni di degrado, di spaccio, anche di danneggiamenti, furti su autovetture, aggressioni da strada. Insomma la finalità è dare una presenza tangibile, visibile alle forze dell'ordine che incida positivamente sulla percezione della sicurezza, cioè vogliamo che la gente si senta sicura. Grazie. Grazie a tutti.